Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 16 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Novità sul fronte lavorativo, con incognita. Qualcosa si annuncia sul fronte lavorativo, ma se si tratti di un'opportunità inattesa o dell'ennesima grana, questo ancora non è dato saperlo. Prima dovrete aprire il pacchetto sorpresa o almeno la mail e conoscere il contenuto. Variabili infatti le stelle che la muovono, con la luna, Giove e Urano tutti nella vostra sesta casa, appunto quella attinente alla professione ma anche al benessere, attenti perciò a eventuali spie di malanni, sottotiro di Saturno e qualcosa di silente oggi potrebbe diventare manifesto, mentre un forte nervosismo vi fa muovere a scatti e magari anche fare strane smorfie, segnali di un'intima tensione. La soluzione parlare di più, dar voce ai vostri dubbi, invece il sestile di Plutone vi mantiene insolitamente taciturni, cosa che per voi loquaci, di regola ottimisti, suona come neresia. Pesante stare sui libri, ma se lo fate solo per cultura oggi potete anche permettervi il lusso di chiuderli e occuparvi d'altro. Il rapporto di coppia risente di una discreta ambiguità, e sono possibili anche falsità, egoismi, bugie e qualche tradimento. L'incompatibilità dei caratteri potrebbe fare la differenza che porterà a una crisi di coppia molto seria. L'amore è destinato a diradarsi e le coppie a dissolversi. I single, pur avendo buone opportunità, non sapranno sfruttarle e annasperanno in un mare di indifferenza le loro problematiche. Incontri interessanti. Lettere. Telefonate, sms, notizie, novità. Inviti. Proposte. Comunicazioni d'amore e tanta voglia di divertirti. Questioni immobiliari e domestiche favorite. Una possibile conquista in serata per i nati dal lunedì al mercoledì. Non avere fretta in amore. Aspetta che maturi nei tempi. I nati di venerdì sentiranno molto gli amici essere vicini. Oggi la luna potrebbe disturbare un po' l'ottimo influsso di giove sulla vostra giornata. Fate tutto sempre con buon senso e con razionalità. Discussioni con parenti o vicini di casa. Pensa bene prima di parlare. Emotività e sbalzi di umore. Meglio non prendere decisioni importanti oggi affetto e armonia in famiglia. Amore e passione alle stelle. Almeno sulla carta un regalo. Successi grazie alla fiducia che proverai in te stesso. Condividete le vostre idee, progetti e intenzioni solo con persone fidatissime e sincere. Qualcuno potrebbe rubarvi le idee oppure precedervi rovinato il tutto. Troppo tempo al computer vi farà perdere la bussola, rischiate di sentirvi depressi e potreste affrontare malvolentieri le vostre giornate. Meglio utilizzare meno il computer. Affrontate tutto in modo grintoso e con determinazione. Oggi è una di quelle giornate in cui la vostra esitazione potrebbe dare dei vantaggi agli altri. Sfruttate la grande energia di oggi. Siete nati della prima e seconda decade? Plutone sta continuando la sua fausta, per voi, sosta, insieme a Mercurio nel segno vostro amico dell'acquario, favorendovi alla grande. Dinamici, spigliati, vitali, sentite la necessità di mettere via quel che di usato, consumato, l'iso, c'è nella vostra casa, per rivoluzionarlo, ridargli nuova luce, rimetterlo completamente a nuovo. La buona sorte asseconderà oggi i vostri intendimenti. Giornata no sul fronte familiare, con l'algido Saturno in quadratura oggi c'è poco da fare, si comunica poco, non ci si guarda in faccia e non soltanto in famiglia, specie con la frangia più anziana, anche tra vicini dopo un'assemblea condominiale dagli effetti disastrosi. Non fosse per la coppia l'una giove, fortunatissima sul lavoro e protettiva sul fronte della salute, comincereste a lamentare anche qualche indolenzimento alla colonna e alle articolazioni, ma se durante il weekend non rinunciate alla ciaspolata, alla partita di pallone e l'età non è più verdissima, le conseguenze continuano a farsi sentire almeno fino a metà settimana, segno che al vostro fisico state chiedendo troppo. Diradate un po'. Amore ed Eros. Siete amati e lo sapete, è una consapevolezza che vi basta, anche se oggi il partner non è particolarmente cerimonioso. Quattro zampi dolcissimo sempre pronto a consolarvi, se in casa un cane o un gatto ancora non c'è arrivato il momento di pensarci, magari inizialmente porterà un po' di trambusto, ma poi anche tanta gioia e serenità. Nella giornata dedicata a San Faustino protettore dei singli capiamo se voi volete essere in coppia oppure spiriti liberi. Il vostro un segno che ha due volti, rappresentati dai due pianeti governatori, uno più normalizzante, dato da Giove e un altro più innovatore dato da Nettuno. In voi si mescolano le due tendenze di desiderare, da un lato di essere in coppia con una certa insistenza e per desiderio di farvi un nido, e, dall'altro di evadere e sperimentare nuovi rapporti per amore e di avventura, che in voi è fortissimo. Lavoro e denaro. Giornata stacanovista, per non parlare delle faccende domestiche, se domani sera all'uscita dall'azienda avete in programma una partenza per la montagna, questo venerdì diventa a tutti gli effetti un venerdì, con la spesa, le pulizie e se ci sta anche lo stiro. Portarsi avanti è sempre vantaggioso. Poca voglia di piegare la testa sui libri, con l'allungarsi delle giornate il pensiero delle vacanze comincia a invadere la vostra mente. Non vi sembra un po' prestino? Prima c'è Pasqua. Benessere. Malessere improvviso, il crampo, la tensione muscolare, lo scatto di nervi, tutto ci sta in un momento di tensione emotiva che vi vede preoccupati per l'andamento del lavoro, l'assetto finanziario e soprattutto il futuro del pianeta, sempre più inquinato e siccitoso. Sarà recuperabile? Impegno ecologista no stop, per riavere un mondo green siete pronti a impegnarvi al 100%. Per lei, ci mancavano anche i capricci della vostra vecchia auto, la usate poco, ma almeno per il supermercato era una garanzia. Ora invece. Armatevi di carrello della spesa e. Buona passeggiata. Per lui, oberati di lavoro senza nemmeno il tempo di respirare, difficile capire cosa vi manchi di più, la palestra, la serata culturale o la bisboccia tra amici, di rigore stasera tra spaiati, augurandovi almeno che il brindisi vi porti un incontro. Colore delle emozioni, blu inchiostro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.